Risvegliarsi è avere un solo atteggiamento verso tutto amore incondizionato. Bellissimo messaggio in cui viene spiegato il significato del risveglio altrove chiamato Ascensione. Risveglio dall'illusione della separazione da Dio. Tutti coloro che vi amano stanno guardando con entusiasmo e grande interesse come l'umanità fa i suoi preparativi finali per risvegliarsi. Sì, si stanno facendo i preparativi. Ogni volta che offrite un amorevole o compassionevole pensiero, parola o azione, e ogni volta che fate un atto di perdono, privatamente nella vostra mente oppure attraverso un intervento verso qualcuno, rilasciatevi più del vecchio, senza amor-atteggiamento comportamentale, che vi appesantisce nell'addormentata profondità dell'illusione. Man mano che diventate più leggeri la vostra luce brucia più luminosa, e diventa più facile per voi continuare a rilasciare il bagaglio negativo, che può causare un comportamento reattivo, che voi in un secondo momento o anche nel momento rimpiangereste. L'illusione era un posto, che avete costruito per giocare il vostro gioco di separazione, e parte della sua attrazione è stata l'opportunità a mettere in atto comportamenti, che sono impossibili in realtà, impensabili nella realtà. Era solo un gioco, ma più lo giocavate, più reale sembrava essere, fino a quando non sembrò aver sostituito la realtà, il Paradiso, il vostro stato di unione con Dio. Ma, naturalmente, nonostante il dolore e la sofferenza, che vi ha causato, rimane irreale, e il vostro risveglio è assicurato. Siete come i bambini troppo stanchi che hanno bisogno di essere messi a letto, ma resistono testardamente perché non vogliono smettere di divertirsi. Ma, essendo stanchi, non si divertono più. È tempo, che il padre o la madre li sollevino, dando loro un abbraccio caldo e affettuoso, e poi li metto a letto e leggono loro una breve ma gratificante storia per metterli a dormire. I genitori sanno che quando si risvegliano la mattina saranno completamente ripossati e pieni di entusiasmo per la meraviglia della vita. Lasciare andare insensibili atteggiamenti e comportamenti è come mettere in ordine i giocattoli prima di andare a letto. È un ostacolo, non si vuole farlo, ma sai che se lo fai, la mattina sarà tutto fresco e nuovo per giocarci. L'illusione è un'esperienza faticosa, e quando si è stanchi è molto più difficile lasciar andare la rabbia, risentimento, e il giudizio, e i sentimenti, che avete il diritto di restituire per terminare la vostra sofferenza. Quando siete riposati, è molto più facile vedere che la vostra sofferenza si verifica come conseguenza di come si sceglie di percepire una situazione, contribuendo così a lasciar andare irrealistiche percezioni e gli atteggiamenti che esse generano. Risvegliarsi è avere un solo atteggiamento verso tutto, in tutte le situazioni, in tutte le interazioni, in tutti i rapporti, e questo atteggiamento è l'unico atteggiamento vero, l'unico atteggiamento che esiste realmente, ed è, naturalmente, amore incondizionato. Tu sei amore, perché questo è ciò per cui sei stato creato, e nell'illusione hai tentato di nasconderlo mentre sgiocavi ai tuoi giochi. Tuttavia, le tue illusioni non possono nascondere la realtà, che è infinita ed eterna, possono solo temporaneamente consentirti di credere che lo stai facendo, e solo fino a quando si dissolvono nel nulla da cui le avete fatte, cosa che avverrà al vostro risveglio. Il momento del risveglio non è lontano, e molti di voi stanno ottenendo forti indizi, che confermano che questo sta per accadere. Il desiderio e l'intento, che molti di voi stanno esprimendo, di trovare il vero significato della vita, sta avendo conseguenze enormi, che stanno scuotendo le fondamenta dell'illusione, come un gigantesco terremoto, un terremoto, che l'illusione non può e non sarà in grado di sopportare. Il suo tempo è quasi finito, la sua fine è in vista, e ben presto la stragrande maggioranza degli esseri umani si renderà conto di questo e ritirerà il proprio sostegno ad essa fino alla sua caduta. In un primo momento, il pensiero di fare questo è inquietante, spaventoso anche per voi, perché sembra che sia stata la tua casa per un tempo molto lungo, ed è difficile per voi immaginare la vita senza di essa, la vita altrove. E perché non si può davvero immaginare che cosa sarebbe la vita senza di essa, si immagina che non ci sarà nulla per sostituirlo, ma solo estremo abbandono e assoluta solitudine ed esolante, un grande vuoto, un vuoto, una fine terribile e definitiva all'esistenza. Per quanto spiacevole la situazione attuale possa essere, non volete veramente che la vostra esistenza possa essere terminata, alla fine, per tutta l'eternità. Questo non avrebbe alcun senso, perché credete che l'esistenza debba avere un motivo significativo per esserci, che naturalmente c'è, ed è quello che ti dà speranza. Il fatto, che dentro l'illusione devi ancora trovare il significato, non significa che ci vuoi rinunciare. Di conseguenza, l'idea di lasciarla dissolvere, disintegrarsi, è inquietante. Avete provato molte volte a convincere voi stessi, che l'illusione è realtà, e che non c'è niente altro, nonostante il dolore, la sofferenza, e la confusione, che vi ha causato, si preferiscono avere quella al posto di niente, e molti credono ancora che possa essere bella, pacifica e sicura. La meraviglia di tutto questo è che la realtà, l'unità con Dio, è di una bellezza e di un significato infiniti, ed è il senso dell'esistenza, perché è stata creata per mettervi nella gioia infinita nella presenza eterna di Dio. La conoscenza di questo, che portate in profondità dentro di voi, ognuno di voi, sta inesorabilmente filtrando nella vostra consapevolezza e sta dandovi la forza e la determinazione per rilasciare quei vecchi atteggiamenti insensibili, atteggiamenti che vi hanno mantenuti saldamente ancorati all'illusione, e per abbracciare il campo divino dell'amore, che vi circonda e che vi aiuterà a risvegliarvi. Non temere la perdita dell'illusione. Invece, apri te stesso all'amore, che è la realtà e risvegliati. Il tuo amorevole fratello Gesù canalizzato da John Smallman